Negli ultimi due anni nel centro storico di Fano hanno chiuso 50 negozi, piegati dalla crisi economica provocata dal Covid, i gestori e titolari delle attività commerciali sono stati costretti ad abbassare le serrande, mancanza di turisti, smart working, costi degli affitti troppo alti e incassi bassissimi. Sono queste le cause dello tsunami che ha colpito la città di Fano, dove chi è riuscito a rimanere in piedi lo ha fatto comunque non senza difficoltà. D'altronde serve un certo eroismo per investire in piena pandemia e quello del commercio al dettaglio rimane il settore che preoccupa di più. A fare una prima stima ai nostri microfoni Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano. Chiaro che la pandemia ha influito moltissimo su questo perché c'è chi è riuscito comunque ad andare avanti e c'è chi invece purtroppo ha dovuto chiudere perché finanziariamente non ce la faceva. È anche vero che c'è stato su qualche locale anche un ricambio, un ricambio che però è legato principalmente al food, quindi al bar e alla ristorazione, cosa che in centro storico magari invece ci vorrebbe anche una diversificazione dei settori merceologici. Quindi avere un centro storico a 360 gradi con attività economiche anche diversificate sarebbe la cosa migliore. Magari anche legato all'artigianato potrebbe essere bello, potrebbe essere un'idea e questo sarebbe sicuramente importante. Quindi diciamo che il nostro centro storico è talmente bello che noi crediamo veramente e speriamo che vengano a comunque investire nel nostro centro storico. Diciamo che la nota dolente è che purtroppo molti hanno dovuto chiudere perché gli affitti comunque sono alti e spesso i proprietari non li diminuiscono, cioè preferiscono tenere magari il negozio sfitto piuttosto che affittarlo al prezzo che dicono loro. Noi invece crediamo che comunque dare un decoro al nostro centro storico, avere un affitto sicuro con persone sicure dove comunque c'è un giro economico importante sarebbe sicuramente la cosa migliore. Noi crediamo nel centro storico e crediamo sicuramente in un progetto di città che vorremmo capire come viene sviluppato perché destabilizzare gli operatori o chi vuole venire ad investire e questo comunque crea un po' di tensione. Quindi noi chiediamo sicuramente il progetto della città, chiediamo le infrastrutture e chiediamo proprio la riqualificazione del centro storico.